che non può esercitare di questo, però vi dicono sensibilità diverse, la Cilindra ovviamente ha un punto di vista estremamente diverso su questi temi, quindi anche quella era una visione parziale per la Cilindra, non guardava la sua competenza. Doriana, vorrei intervenire. Sicuramente appunto, come diceva Matteo, come dite tutti, all'interno del Partito Democratico ci sono sensibilità diverse e su questo noi sicuramente ci prendiamo l'impegno di lavorare, però c'è una sorta di ipocrisia oggi a chiedere un rinvio alla Corte, perché un rinvio alla Corte l'avremmo potuto credere se noi in Commissione eravamo vicini a prolungare un testo base e quindi avevamo solo bisogno di un po' di tempo per mettere proprio i puntini e le norme definitive, chiedevamo alla Corte giustamente...